Picco di contagi nei comuni vesuviani. Ieri sera il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha annunciato in diretta che 43 cittadini erano risultati positivi al Covid-19 solo nella giornata di ieri. Sono 15-128 i torresi affetti da coronavirus, di cui sei ospedalizzati con sintomi. Numeri mai visti nemmeno nei tempi più bui di inizio pandemia. Nemmeno gli altri comuni del Vesuviano versano in condizioni migliori. Torre Annunziata ha registrato ieri 25 cittadini positivi, 137 attualmente contagiati anche a Ercolano, dove il sindaco Ciro Bonaiuto ha dichiarato un'impennata ai tamponi positivi nelle ultime 72 ore. Una situazione gravissima che ha portato il primo cittadino a chiudere il mercato settimanale in Piazza Pugliano e tutti i circoli ricreativi e centri per gli anziani. Scelte ancora più drastiche se si considera che solo lunedì Bonaiuto aveva annunciato, in pieno contrasto col DPCM emesso dal governo, di non voler assolutamente chiudere strade e piazze e, in generale, evitare misure restrittive verso i suoi concittadini. Apprezzione a portici per il sindaco Enzo Cuomo, risultato positivo al Covid. Continua a lavorare da casa, annunciato con un posto su Facebook ieri sera. Nello stesso messaggio, il primo cittadino ha tranquillizzato riguardo i contagi verificatisi nelle scuole nelle ultime settimane. In pochi giorni, oltre 400 tamponi per monitorare la situazione. San Giorgio ha lutto per due decessi da coronavirus. Inoltre, da sabato a ieri, sono stati 69 i cittadini in risultati positivi. Il sindaco Zinno ha lanciato un appello alla popolazione per rispettare tutte le regole previste da ordinanze e decreti ed ha chiesto all'ASL di accelerare i tempi per i tamponi di guarigione, fermi ormai da giorni, costringendo moltissime persone a continuare una quarantena inutile. Dati che, inevitabilmente, vanno a gravare sulle condizioni già critiche degli ospedali e del territorio. Il Covid Hospital di Bosco Tre Case attualmente conta 70 ricoverati per coronavirus, 14 in subintensiva e 5 in intensiva, di cui 4 persone intubate. L'ospedale Maresca di Torre del Greco, invece, si avvicina sempre di più a diventare un secondo Covid Center. Ieri, il Padiglione Vecchio è stato rinominato Palazzina Covid ed ospitirà almeno 28 pazienti per alleggerire il carico di degenze che grava su Bosco Tre Case. Situazione critica anche per l'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equenze, anche questo destinato ad accogliere solo pazienti affetti da coronavirus. I cittadini e dei rappresentanti territoriali di Fratelli d'Italia stanno protestando nelle ultime ore per chiedere l'apertura del pronto soccorso anche ai pazienti ordinali. All'ingresso della struttura campeggia da questa mattina un lenzuolo con la scritta Non si muore solo di Covid. All'ingresso della struttura